Torna all'emergenza atti di vandalismo sulle auto in sosta a Padova. Nemmeno il tempo per i residenti di Via Altinate di denunciare i danni subiti sulle loro vetture oppure sugli scooter, di segnalare la rottura di fioriere e delle centraline Enel durante la notte da giovani in preda all'alcol dello spritz che all'arcella scatta il secondo allarme vandali. Tra via Faggin e via Induno alla Santissima Trinità ecco la moria degli specchietti retrovisori. I vandali non guardano al modello di auto più o meno pregiato, rompono e basta. Tra i proprietari prevale lo scoramento e non vanno nemmeno a denunciare. Non serve, dicono, a meno che non abbiano una specifica assicurazione. Gli episodi dell'arcella sono accaduti nelle notti tra domenica scorsa e giovedì.